Jeep Renegade ha rivoluzionato in meno di cinque anni il segmento dei SUV compatti, dove ha portato lo spirito e la tecnologia del brand, che da oltre 75 anni è l'icona dell'off-road. Le modifiche apportate alla gamma attuale non ne hanno stravolto il design e l'anima, perché un best-seller va sempre aggiornato con cautela. Stilisticamente riveduta in alcuni dettagli che ne aumentano la personalità, la rinnovata Renegade, che conserva sempre l'opzione fra la trazione integrale e quella sul solo asse anteriore, la più richiesta nel segmento. Offre una gamma rinnovata di motori a benzina e diesel con potenze che vanno da 120 a 180 CV. Propulsori che guadagnano in prestazioni, ma che riducono sensibilmente i consumi. Al volante di Renegade, come su tutte le sorelle maggiori, ci si sente subito dalla parte della grande ed esclusiva famiglia Jeep. Ogni dettaglio, dalle finiture alla strumentazione, ce lo ricorda. E l'insieme infonde la convinzione che con Renegade si possa andare davvero ovunque. Le leggendarie performance off-road, tipiche del marchio Jeep, sono garantite da due sistemi 4x4 avanzati, Jeep Active Drive e Jeep Active Drive Low, che assicurano prestazioni di riferimento in qualsiasi condizione di utilizzo.